Lo so, ti impegni tanto per gestire la tua pagina Facebook o investi per farla gestire e poi arriva quello lì, quello scocciatore che inizia a riempirti di commenti negativi nella pagina oppure ti mette anche recensioni negative. Ma parliamo dei commenti oggi e quindi c'è lì la tua manina che freme per poter cancellare i commenti. Ma effettivamente è il caso di farlo o è il caso di evitare? Lo scopriremo in questo video. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Facebook e ai suoi commenti. Vedremo se è il caso o meno di cancellarli quando abbiamo dei commenti un po' scomodi, quelli che vanno anche a rovinare magari l'atmosfera della nostra comunità. Oggi vedremo insieme tutte queste cose ma prima di iniziare come sempre iscrivetevi al canale attivando le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti in ambito di digital marketing specializzato nel settore turistico. Ma veniamo a noi, veniamo all'argomento del giorno. Bene, qualche settimana fa un mio cliente subito mi ha mandato un messaggio, cancella il commento, blocca questa persona perché poi di solito quando si cancellano i commenti subito c'è il blocco. E non è la prima volta sinceramente che mi arriva questo tipo di richiesta. Cerco sempre di valutare la situazione e vedere se effettivamente è il caso di farlo. Perché in realtà non è sempre così e oggi vedremo caso per caso. Allora, prima di tutto facciamo l'esempio di una pagina molto attiva. Facciamo finta magari di stare in stagione o comunque siete un albergo che è aperto tutto l'anno e avete una pagina molto attiva. In quel momento cancellare subito il commento. Quando il post ancora è in corso, beh lì non conviene assolutamente cancellare quel commento. Perché altrimenti tutti coloro che magari anche vi sostengono che si sono trovati bene nel momento in cui si accorgono che prima c'era quel commento negativo e poi questo commento è sparito, bene, di conseguenza già inizieranno a dubitare della vostra trasparenza e di quello che voi andate a dichiarare online. Stessa cosa magari per coloro che invece non vi conoscono. Sono ancora nella fase decisionale perché ci sono coloro che invece si iscrivono alle pagine ancora prima di effettuare una prenotazione perché vogliono un attimino capire e conoscervi. E anche in quel caso il rapporto di fiducia che magari si sta iniziando a creare, beh, inizia a venire meno. Quindi assolutamente no. Soprattutto nel momento in cui poi questa persona della quale avete cancellato il commento, beh, poi non la bloccate. Se non la bloccate che cosa succede? Di conseguenza, ah, mi avete cancellato il commento e iniziano a piovere critiche su critiche. Quindi, capite bene, nel momento in cui poi c'è anche un'altra persona che magari fino a quel momento non aveva commentato ma alla quale piace fare polemica, subito si accoda e inizia a commentare il fatto che siete stati scorretti ad aver cancellato quel determinato commento che conteneva una critica. Bene, questa è una prima visione alla quale noi dobbiamo tenere in considerazione. Quindi che cosa fare? Sicuramente, come vi dico ogni volta, rispondere sempre sia ai commenti che alle recensioni. Anche se questi sono negativi, anzi, soprattutto se sono negativi. E perché lo dobbiamo fare? Se dall'altra parte c'è una critica costruttiva o qualcosa che è palesemente vero, non siamo perfetti, tutti noi abbiamo magari un punto o qualche debolezza all'interno della nostra struttura che dobbiamo migliorare, beh, a questo punto che cosa succede? Che noi rispondiamo. Denote attenzione al cliente, dimostra che da parte nostra c'è una voglia di migliorare e che prendiamo in seria considerazione le critiche costruttive che ci fanno i nostri clienti, che noi li ascoltiamo. Bene, quel commento negativo diventa per noi un qualcosa, un punto di forza per coloro che poi andranno a leggere la nostra risposta. E fin qui tutto bene, abbiamo parlato di commenti che contengono critiche costruttive, seppur negative, poi invece ci sono i leoni da tassiera o quelli che semplicemente vogliono rompere le scatole sulla nostra pagina. Non potete immaginare quante volte mi capita nell'ambito turistico, per quanto riguarda le pagine delle strutture ricettive, che ci sono coloro che si sono trovati male e che vanno a rispondere ogni singolo commento di coloro che invece si sono trovati bene, deridendo il fatto che loro magari abbiano apprezzato un servizio che loro invece hanno considerato scadente. In quel caso io consiglio sempre di procedere con movimenti, perché va bene, lo fai la prima, la seconda, già la terza inizia un po' a scocciare, però a quel punto si dice, guarda, va bene, tu non ti sei trovato bene, però non è il caso, chiediamo di rispetto per le opinioni a tui, così come noi rispettiamo la sua, e non è il caso di deridere le altre persone che magari invece hanno apprezzato il nostro servizio, essendo comunque la cosa soggettiva e non oggettiva. In alcuni casi è funzionato, in altri casi no, lo devo ammettere, però ci sono, questa è una buona tecnica per iniziare a fare un ammonimento, così come ci sono coloro che invece insultano proprio gratuitamente, in quel caso no, l'ammonimento deve essere pesante, subito bisogna dire, senti, o te la smetti o praticamente verrai bannato, perché avere una pagina che attiva, dove c'è una bella community, beh, vedetemi, non è facile da gestire quella community, e mantenere un clima sereno, perché è quello che noi vogliamo, non vogliamo che ci sia ogni giorno un problema, critiche, polemiche, perché dobbiamo far capire a coloro che poi si iscrivono alla nostra pagina, mettono e segui, che da noi c'è un bell'ambiente, se io devo venire da voi in vacanza, è già vero che sulla pagina ci sono polemiche, ogni cosa diventa un caso di stato, beh, a questo punto mi passa un po' la fantasia di venire da voi. Quindi, noi dobbiamo sempre preservare la nostra community. Se c'è qualcuno che non rispetta le linee guida, anche se non le abbiamo comunque scritte della nostra community, bene, a quel punto sì, lo potete mandare via. In quel caso siete ampiamente giustificati, ma cerchiamo di farlo solamente in case limite, quando vengono, ad esempio, utilizzate parole volgari, o comunque commenti pesanti, o comunque palesemente non veri, quando proprio si esagera, quando vi accusano magari di dare alimenti avvariati, perché semplicemente si è trovato male, e quindi troviamo il leone della tassiera di turno che deve a quel punto esagerare. In quel caso io vi consiglio di rivolgervi poi un avvocato quando si tratta di questi casi umani. Le altre persone che secondo me poi sono da ammonire senza arrivare addirittura a bloccarli, quelli che sono invece i passivi aggressivi, che non commentano direttamente con la loro opinione, ma magari se qualcuno si è trovato bene e loro non sono d'accordo, rispondono con vabbè, emoticon che guardano verso l'alto e così via. Anche coloro, anche loro, beh, in quel caso sarebbero da ammonire, sempre rispetto delle opinioni altrui. Non è il caso di bannarli, perché significa poi che passa il messaggio che alla prima occasione in cui io non sono d'accordo, tu mi bagni. No, questo messaggio è brutto da far passare. Altra cosa importantissima che vi voglio dire è quella di non cadere nella provocazione, perché i leoni da tassiera aspettano solamente questo, voi che abbocchiate nella provocazione e quindi iniziate a rispondere, c'è il botte e risposta, voi li dovete assolutamente sedare. E ci sono tantissimi modi per dare delle risposte senza cadere nella provocazione. È successo così anche per il canale YouTube di un mio cliente dove c'era una persona che stava facendo il passivo aggressivo senza insultare direttamente, ha fatto tre, quattro commenti, le ho risposto da manuale, questa persona è sparita. E altre volte mi è capitato anche su Facebook. Se no, altrimenti poi passate anche voi, anche in questo caso, a degli ammonimenti. Il mio ultimo consiglio qual è? Sicuramente questo vi piacerà. Nel momento in cui di quel post mai non se ne parla più, le persone non commentano, magari è passato anche del tempo, beh, in quel caso io vi dico, ok, potete cancellare magari quelle critiche particolarmente fastidiose, comunque quei commenti scomodi. È una cosa che si può fare anche per le strutture stagionali nel momento in cui la stagione è terminata, lasciate passare magari un paio di settimane, ormai la community si è dispersa perché ognuno sta tornando alla vita autunnale, a quel punto si procedete con la cancellazione di alcuni commenti. Perché in quel caso le persone non se ne accorgono, magari il diretto interessato può andare a fare ancora una controllatina, però non gli importa più perché alla fine voi ormai avete chiuso, quindi perché continuare a fare le critiche? Anche lui è passato un'altra pagina per divertirsi un altro po' e quindi di conseguenza voi vi andate a togliere quei commenti e avete la pagina un pochino più pulita per quanto riguarda tutto il periodo invernale per quando sarete chiusi. Bene, spero come sempre che questo video vi sia stato utile, io vi aspetto nel prossimo video, ma prima di andar via iscrivetevi al canale attivando le notifiche. A presto, besos!